a Francia indignazione per un video che mostra l'aggressione di una donna nelle strade di Parigi un'aggressione avvenuta nei pressi di un caffè parigino ha suscitato scalpore in tutta la Francia la scorsa settimana riaccendendo il dibattito pubblico sulle molestie sessuali Marie Laguerre, una studentessa di architettura 22enne, è stata presa a pugni da un uomo dopo averlo rimproverato per averle rivolto alcuni commenti a sfondo sessuale un video che ritrae l'episodio è diventato virale dopo la sua pubblicazione sui social media l'episodio ha avuto luogo lo scorso 24 luglio, verso le 6 e mezza del pomeriggio Laguerre stava tornando a casa, a piedi, dal lavoro quando un uomo, passandole accanto, ha emesso un fischio rivolgendole poi alcuni commenti volgari Laguerre ha reagito dicendo all'uomo di stare zitto a quel punto l'uomo ha preso un posacenere e l'ha lanciato verso la ragazza, mancandola di poco dopo un breve scambio di insulti, l'uomo ha dato un pugno a Laguerre, facendole perdere l'equilibrio i clienti del caffè hanno rimproverato l'aggressore che si è poi allontanato dopo aver pubblicato sui suoi profili social il filmato di una telecamera di sicurezza del caffè che ha ripreso l'aggressione, Laguerre ha scritto sono stufa di sentirmi in pericolo quando cammino per la strada le cose devono cambiare e devono cambiare adesso diversi politici francesi hanno offerto pubblicamente il loro appoggio alla guerra lo so che aggressioni di questo tipo contro le donne si verificano quotidianamente in diversi paesi del mondo ma in Francia? in pieno giorno? Stefano, tu sei scioccato perché hai visto il video ma le donne sono costrette a sopportare rumori e commenti indesiderati e volgari ogni giorno la verità è che le molestie sessuali sono tuttora una componente abituale nella vita di molte donne e l'aggressione che ha avuto luogo dopo? purtroppo anche le aggressioni di tipo fisico sono comuni oh, non lo sapevo beh, in questo caso ora ci dovrà essere un dibattito serio su questo tema non solo in Francia ma in tutto il mondo questa vicenda avrà un impatto concreto sei sicuro, Stefano? pensa alla quantità di dibattiti che ha generato il movimento Me Too beh, quei dibattiti hanno avuto un effetto positivo lo pensi davvero? le donne continuano a subire molestie sessuali, no? sì, ma presto questi comportamenti saranno puniti per legge ti riferisci alla nuova legge francese che prevede multe immediate nel caso di commenti e comportamenti a sfondo sessuale nei luoghi pubblici? sì mi piacerebbe poter pensare che le cose ora cambieranno ma concretamente come funzioneranno queste multe? di solito le molestie sessuali avvengono in pochi secondi le donne non possono mica bloccare gli uomini che fischiano o fanno commenti volgari e aspettare che arrivi la polizia ok, in effetti è probabile che le multe non siano una soluzione particolarmente efficace ad ogni modo questa nuova legge invia un messaggio deciso le molestie sessuali non sono accettabili e questo è un passo avanti